E oggi? Che giorno è? Il primo di agosto! Il giorno della partenza! Sei emozionato? Ebbè certo, ovvio! Abbiamo caricato tutto, siamo prontissimi vero? E molto carichi! Yeah! Adesso mette in moto! Prontissima! Molto pronta! E' molto carica, emozionata, per partire non col palo ma con lui! Eccolo, eccolo! Col nostro adesivo, quello dietro! Bello l'adesivo! Una scaldatina e siamo pronti! Grazie! 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 Grazie!